TAN 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 Ci siamo o no? ...a mettere nel video, gli metti Luciferol, idraulico che non perdona Uso domestico, stura tutto Andate con questo e vedrete che fa peggio di un diuretico ABDOMINAL Questo qui serve per la massa estiva, nel prossimo video glielo mettiamo, cioè definizione estiva, lo stura tutto tiri fuori degli addominali che caga anche l'intestino ... Prossima maglietta la facciamo così Per l'estate BOOM E allora che so che quando dico e allora al mio cameraman vicino di coglioni partiamo con il video per quanto riguarda non alimentazione ma oggi faremo vedere un frullato quello che è un diciamo va a integrare tutti i pasti della giornata che al posto di prendere le solite proteine in polvere con l'acqua o con il latte si può andare a fare un mix dove mettiamo dentro un po' di proteine, un po' di carboidrati buoni, insomma un frutto burro d'arachidi eccetera allora vi spiegherò come abbinare tutte le cose a parere mio questo è fondamentale almeno uno al giorno che poi sia metà mattina o metà pomeriggio come volete voi però fondamentale uno al giorno di questi e vi aiuterà sicuramente nella crescita della massa pulita quindi direi di andare diretti senza stare a fare tanti stacchi e non ma perché cazzo siamo in cantina scusa perché in cantina perché siamo in cantina che cazzo ne so io perché siamo in cantina non c'era nessun altro posto perché quando ho detto praticamente io abitando da solo non avevo possibilità di fare questa cosa in un posto un po' spartano quindi ho detto mamma vengo da te e ti sporco tutta la cucina mi ha dato due calci nel culo e mi ha mandato di sotto qui siamo di sotto se vuoi fare un'inquadratura del disastro ambientale che c'è come potete vedere qua c'è di tutto un massacro un massacro quindi andiamo adesso col primo frullato partiamo da questa la mela fondamentale mela ora questa è una mela rossa ma per i veri culturisti i veri bodybuilder sound andrebbe meglio la mela gialla è come definita da tutti la mela più cattiva ma è la mela del palestrato quindi andiamo tagliamo così a cazzo questa mela uno due facciamo ola sparta tutti voi avrete un frullatore del genere quindi uno due tre facciamo così la mela gliela mettiamo tutta una mela una mela tanto la base la mela poi seconda cosa andiamo a prendere proteine queste qui sono le isoway ultra ultra upi non vi dico il gusto perché fanno veramente cagare comunque tutti voi avere delle proteine questo è un misurino un po' piccolo quindi io direi di fare un misurino e mezzo circa fino avanti ho un po' di raffreddore quindi avrò un po' la voce da Thais il trans che abita di fianco a casa mia quindi ricapitolando fino adesso una mela un misurino e mezzo di proteine io andrei a mettere con la mela e le proteine ci vuole l'acqua l'acqua così giusto tanto per le mettiamo un po' poi verifichiamo dopo più tardi se aggiungere o meno quarto step il burro d'arachidi burro d'arachidi nuovo tra l'altro appena comprato fondamentale burro d'arachidi per una crescita esponenziale olla burro d'arachidi va fanculo questa la tagli cucchiaio lo pulisco un po' perché qua dentro c'è da prendere l'ebola burro d'arachidi un cucchiaio pieno quindi vedete cucchiaio pieno burro d'arachidi bene bene a fare così si spacca il frullatore olla non si vuole staccare eh il problema il problema più grosso di questo frullato è il burro d'arachidi quindi andiamo con tutto sporco per un attimo questo era un tema di italiano di quando andavo all'elementari bene quindi step numero 4 un cucchiaio di burro d'arachidi non è finita qui andiamo a prendere un po' di cacao cacao è fondamentale per non dare un gusto orrido al tutto ma ne basta poco eh proprio poco 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 vedete poco poco basta quindi step numero 5 burro d'arachidi visto che ce l'ho qui questo non è fondamentale ma è un po' di cocco rapè per pasticceria per dare così un tocco esotico al tutto proprio una sfruttatina di cocco molti di voi si chiederanno se quello che vi sto facendo vedere è una puttanata invece no tutto questo quindi vado a ricapitolare una mela un misurino e mezzo di proteine con acqua burro d'arachidi e cacao il cocco tralasciamo se non ce l'avete uguale tutto ciò permette la riuscita di un frullato molto molto buono tutto ciò permette un frullato molto molto buono poi proverete e mi saprete dire come vedete l'acqua credo che era giusta perché è abbastanza denso non fatelo molto liquido perché altrimenti potrete avere dei problemi il giorno seguente di dissenteria acuta quindi che rimanga abbastanza denso come avete visto l'ho usata poca dell'acqua adesso forse ho esagerato un pochino di più basta quindi prendete mezza bottiglietta d'acqua ci diamo un'altra sembrata bene questo è quanto andiamo alla riuscita di un frullato che misura più o meno non lo so esatto come pensavo viene super giù un mezzo litro un mezzo litro di roba e nel complesso questo qui fa un pasto diciamo non dico né sostitutivo né completo comunque a metà pomeriggio invece che le solite cose che vi ho detto già nei video precedenti questo può essere una valida alternativa detto questo questo è un mini video comunque iscrizione al canale primo e secondo canale quindi franky comando e franky comando secondo canale la pagina facebook la conoscete tutti non ve la dico più profilo personale fede rossi e instagram è la novità franky comando official io adesso vi saluto se vi piace questo filmato diciamo questo video sul frullato fatemelo sapere perché ne farò un secondo e poi un terzo ne ho tre in mente tre sexy frullati che contano molto anche perché bere sempre lo stesso tutti i giorni dopo un po' per rompere i coglioni vi saluto lo vado a bere e vado a mettere su i miei 7 kg di massa grazie a questo frullato ciao e il merchandising ricorda giusto 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 taglia tutto le strontate che ho detto fino adesso e partiamo da qui quasi dimenticavo quasi dimenticavo il merchandising che non vi non vi sento più molto partecipi e molto cattivi su questo merchandising dove sono le canote le magliette le tappe e tutto ho fatto tutte queste cose dopo di che non lo so allevate i primi ordini 3 400 poi vi siete fermati io adesso ripubblicherò il video del merchandising che magari qualcuno non l'ha visto e potrete capire dove andare ad ordinare i pezzi perché sta arrivando natale e quindi a natale chi non fa una foto nella neve con la canotta di sexy sborrando non conta un cazzo e babbo natale mi porta il regalo detto questo basta perché sono stanco sto dicendo troppe puttanate ci vediamo alla prossima poi lo monti te come ti pare io ho fatto ciao 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 ciao